Torneo a punto dedicato a Fulvia Pavone, una mia compagna di squadra, giocava in seconda base, è mancata prematuramente ma lei avrebbe voluto una cosa del genere, sono molto contenta di poter essere la seconda edizione di questo torneo giovanile, domenica si svolgeranno la sequenza di partite e poi le finali, inizieranno le partite alle 9 e mezza, per concludersi poi alle 5 e mezza e alle 18 ci sarà la premiazione. Ciao sono Chiara Ottolini, ciao sono Asia Sacco, ciao sono Eurea Natigliacelli, pratico questo sport da due anni e mezzo, io da quasi 4 e gioco in tutti i ruoli, io invece pratico questo sport da 4 anni e il mio ruolo che preferisco è il prima base, che è anche il ruolo in cui gioco. Lo pratichiamo perché è uno sport che unisce ed è indispensabile l'aiuto di tutti per poter dare il proprio meglio. È un progetto nato per dare un futuro alle nuove leve, cioè se tu impari a giocare a softball e sei brava e sei brava a scuola, puoi vincere una borsa parziale o totale di studio, una borsa di studio totale o parziale. Lo slogan della scuola è Eat Run and Fly to USA, appunto batti e corri e vola a studiare negli Stati Uniti. Il progetto della scuola entra nella società con una iniziativa particolare, cioè di insegnare veramente a tutti a giocare. Non è la classica società dove individui i talenti, porti avanti loro, gli dai un ruolo ben preciso, ma tutte le ragazze che si avvicinano alla scuola possono giocare lanciatore, ricevitore, tutti i vari ruoli complessi di questa attività che non fanno altro che dare esperienze motorie molto complesse a tutte le ragazze che partecipano alla scuola. Poi ovviamente qua siamo in un posto dove non c'è l'università e le ragazze crescendo vanno poi nei loro liri di università e dove se hanno coltivato questa passione possono continuare. Mi chiamo Giulia e vengo da Parma e pratico questo sport da un anno.